Grazie a tutti. Sì, arriva la stanza dell'abbraccio tra commozione e applausi. Artificieri al lavoro a Rosà, proiettili inesplosi trovati in un cantiere, ben 1250. Un tuffo nel tempo all'epoca di Ezzeline Dante con un film suggestivo in onda su Rete Veneta. Si rivolge nuovamente al Ministero della Regione Veneto in merito alla riclassificazione dell'ultimo tratto Sud Valsugana. TG Bassano, una buona serata a tutti voi telespettatori, ben ritrovati nei nostri studi. Lo avete sentito dai titoli in apertura. Ci occupiamo della tanto attesa ritornata zona gialla di lunedì. È un vero e proprio conto alla rovescia. Intanto, insomma, si spera nelle nuove riaperture, si spera soprattutto nel nuovo rilancio, in una nuova ripartenza. Ultimo weekend in zona arancione. Anche il Bassanese è pronto a ripartire, anche se con il freno a mano tirato, visto che bar e ristoranti potranno servire ai tavoli, ma solo se all'aperto, andando, come abbiamo in più occasioni sottolineato, a penalizzare chi non ha spazi all'esterno. Così come pesa ancora il coprifuoco alle 22. Sarà finalmente una ripresa per musei, teatri, cinema, che potranno, dopo mesi di totale oblio, riaprire le porte a cultura, spettacoli, arte, musica, tutto ciò che tanto è mancato in questo periodo difficile. Pur con le limitazioni del caso, capienze ridotte, distanze di sicurezza, ma la bellezza di poter tornare ad ascoltare un concerto dal vivo e non solo sul pc, come abbiamo fatto finora. Di ammirare di persona l'allestimento di una mostra, di seguire una pièce teatrale. La gente ha voglia di tornare alla normalità, anche se sarà difficile tornare ai tempi del pre-covid. Resta infatti fondamentale che accanto a questa parziale ripresa delle abitudini, di una quotidianità che ci sembra lontana, ognuno di noi continua a mantenere ben presente che il covid non è scomparso. Quindi, con ottimismo e sirenità, capire che si ricomincia, piano piano, ma senza mai abbassare la guardia. E a proposito abbiamo chiesto ai bassanesi, alle bassanesi, che cosa faranno, la prima cosa che faranno, a partire proprio da lunedì prossimo. Caldo, bel tempo e finalmente un po' di libertà. Abbiamo chiesto ai bassanesi qual è la prima cosa che faranno dal 26 aprile. Andare a bere un cappuccino con un'amica. Ah, io dico a mio marito che apra l'assicurazione del camper. Penso che andrei a trovare i miei amici, cosa che non ho potuto fare finora. Riuscirò a muovermi dal mio paesello. Prendere un aperitivo? Andare a mangiare fuori? Viaggiare. Dove andate? Non a qualsiasi parte, l'importante è uscire. E di uscire. Devo cominciare il trilucineo in ospedale, quindi partirò. Devo aspettare che mi facciano il vaccino per decidere. Mi incateno al bar per una settimana e rimango lì. E a proposito di vaccino, una campagna vaccinale che è la madre di tutte le battaglie. Ne è convinto il direttore generale dell'Ulss 7 Pedemontana, Carlo Bramezza, che tra l'altro è stato ospite del nostro Linea Diretta. In questo momento è la madre di tutte le battaglie. Su questo vi assicuro che stiamo facendo un lavoro enorme. E di questo ringrazio soprattutto tutti i miei medici, i miei infermieri, perché guardate che è un anno e mezzo che loro si lavorano tutti i giorni, saltano i turni, saltano i riposi, perché prima c'era nata l'emergenza Covid, non sapevamo cosa fosse, come curare i pazienti infetti da Covid. Abbiamo creato i reparti, abbiamo fatto... Quindi è stato veramente un lavoro faticosissimo. In questo momento sulle vaccinazioni noi abbiamo finito di vaccinare tutta la popolazione ultraottantenne, stiamo finendo di vaccinare tutta la popolazione fragile o estremamente fragile. Quella domiciliare abbiamo fatto oltre 2.000 vaccinazioni a domicilio. E su questo stiamo creando un'organizzazione su questo territorio, secondo me è molto importante. Stiamo creando tanti punti vaccinali, in modo che i medici in medicina generale possono vaccinare, oppure l'azienda possa vaccinare in posti sicuri, in posti che magari sono partiti il primo giorno con gran confusione, code, ma poi ci siamo organizzati perché guardate che questa campagna vaccinale non l'ha mai fatta nessuno nel corso della storia dell'uomo. E a proposito di campagna vaccinale, lo avevamo annunciato nei nostri telegiornali, è partita oggi anche la nuova sede per le vaccinazioni a Romano Dezzelino che copre la fascia a 70-79 anni. Le persone accettano ben volentieri di essere vaccinate, è rapida anche l'esecuzione, per cui le persone quando sanno di avere un punto vaccinale disponibile vicino a casa o nei pressi del domicilio sono i primi a venire anche senza bisogno di essere chiamati. Abbiamo chiesto che tipo di documentazione viene rilasciato dal centro una volta vaccinati, anche per facilitare così il movimento fra regioni di diverso colore. La cosa è in fase di definizione, comunque nella peggiore delle ipotesi faremo noi un documento dove diremo che il paziente il giorno XY ha fatto la prima dose, la seconda dose. E a proposito, da lunedì prossimo, quindi dal 26 aprile, riprendono anche tutte le prestazioni ambulatoriali e le attività chirurgiche non urgenti anche all'interno dell'ospedale, agende aperte per tutte le prenotazioni grazie all'incremento delle forniture di vaccini. E andiamo a Marostica, dove oggi è stata inaugurata una stanza davvero suggestiva. Da adesso in poi sarà possibile toccare i propri cari e accarezzarli grazie alla stanza dell'abbraccio, in questo caso in forma gonfiabile installata all'esterno di Casarubbi, che ospita 58 anziani non autosufficienti. Una struttura che non ha avuto un solo caso di positività fra gli anziani. Un passo in avanti verso una maggiore umanizzazione delle restrizioni anti-Covid. Speriamo di poter tamponare e perlomeno rendere meno dura la prigionia, perché signori è una prigionia per noi e lo è anche per gli ospiti e anche per i familiari che sono prigionieri fuori. A provare la struttura dotata di parete trasparente, perfettamente stagna e isolante, un ospite di Casarubbi. Ma lei chi aspetta di abbracciare? Mi fioio. Ma addio. Avviciniamo il sindaco dopo l'abbraccio ideale con la signora Laura. Io devo dire che trovo difficoltà a parlare in questo momento, perché anche se non è comunque un mio familiare, mi metto un po' nei panni, magari del nipote o comunque delle persone che hanno un ospite, di fatto magari, possiamo dire, recluso all'interno di una struttura. È dallo scorso anno che c'è un'attenzione particolare per facilitare la comunicazione, porte-finestre con interfono, iPad in dotazione. In estate, percorsi esterni guidati. Mancava il calore del contatto fisico, che adesso diviene realtà. Col di Retti sta facendo la conta dei danni dopo il maltempo di metà aprile. La conta dei danni per il maltempo di metà aprile è salata più di quanto inizialmente ipotizzato. Rallentata, ma salva la produzione degli asparagi, chi paga il prezzo più alto sono gli alberi da frutto. Per quantificare i danni nei vigneti servirà ancora tempo. Diciamo innanzitutto che gli sbalzi termici non ci hanno di certo aiutato. Per quello che riguarda l'asparago bianco, che è un po' il core business dell'ortofrutta bassanese, è stata una nata abbastanza dura, perché con queste ondate di freddo hanno rallentato, se non addirittura bloccato, la produzione di asparagi. Per quello che riguarda le piante da frutta, anche lì il gello le ha notevolmente rovinate, si sono salvate un po' le culture quelle tardive, che devono ancora sbocciare, o anche le ultime semine fatte. Lì fortunatamente possiamo dire di averla passata. È possibile quantificare l'ammontare dei danni in una cifra? Beh, in una cifra adesso è ancora difficile, anche perché i calcoli li stavano facendo in questi giorni, quindi è ancora presto. Però, senz'altro, se fosse filato tutto liscio, sarebbe stato decisamente meglio. Per quello che riguarda le piante da frutto, anche più di metà delle perdite abbiamo avuto. Sui vigneti è difficile quantificare, perché adesso bisogna vedere la stagione come prosegue. E siamo alla cronaca con un decesso, una persona finita sotto il treno è morta, il treno fermo e disagi anche al traffico. Qualche difficoltà per i vendolari che stamattina alle 9 avrebbero dovuto prendere il treno dalla stazione di Bassano in direzione Cittadella, all'altezza di Cassola. Il treno ha interrotto la sua corsa a causa di un insano gesto compiuto in un momento particolare da un bassanese 51enne. Il traffico su rotaia era ancora bloccato alle 10.15, riprogrammate le corse in arrivo a Padova alle 9.44, alle 11.44 e in arrivo a Bassano alle 12.16. Parzialmente cancellato il treno, in arrivo a Bassano alle 9.20. Sul posto, per quanto accaduto, sono intervenuti i carabinieri, la polfer e i sanitari, che tuttavia poco hanno potuto fare. Nei nostri telegiornali, lo ricorderete, ci siamo occupati in diverse occasioni delle attese interminabili ai passaggi a livello, soprattutto a Rosai. Allora, noi abbiamo sentito il primo cittadino Paolo Bordignon. Code interminabili ai passaggi a livello di Rosai. La situazione è destinata a peggiorare nei prossimi mesi quando entrerà in funzione la linea diretta Bassano-Vicenza, precisamente a settembre. Un problema non di oggi e molto sentito anche dal sindaco Paolo Bordignon. La Rosai è tagliata per circa tre ore e mezzo, quattro al giorno, dal passaggio a livello bloccati. 12-13 minuti, a volte anche 15. Per cui è un intervento che stiamo già da anni monitorando assieme a Ferrovie, ma soprattutto con la Regione. Nel tavolo di trattativa con la Regione Veneto pare che la questione passaggi a livello non sia indicata, ma a detta del sindaco è un dibattito da aprire. Mestre, mentre si è appreso che qualche anno fa con l'ente Ferrovia si era parlato di eliminare almeno due passaggi a livello. Abbiamo a breve un incontro con il responsabile Ferrovie di Mestre, per cui siamo, anche a questo punto di vista, siamo operativi anche se i risultati tardano a venire. I risultati tardano a venire, come dice il sindaco, non fosse altro che per un motivo economico. Se si parla di sottopassi, si parla di un intervento di quasi 8 milioni di euro, quello centrale, che il comune deve sobbarcarsi per il 95% dell'importo. Ma in vista della nuova tratta Bassano-Vicenza, il sindaco non sta a guardare. Tarderemo a battere cassa a Ferrovie a breve per cercare di risolvere questo problema, che è un problema soprattutto di sicurezza, perché essere tagliati a metà il paese per tre ore e mezza al giorno è un aspetto molto grave. Restiamo a Rosà, Artificeri al lavoro, dopo che sono stati ritrovati durante alcuni lavori in un cantiere, dei proiettili della Grande Guerra. Artificeri in azione dalle 9 in Borgo, Tocchia, Rosà per il ritrovamento di ieri mattina, che ha costretto gli operai a chiudere il cantiere e mettere in sicurezza l'area, come stabilito dalla Prefettura di Vicenza, avvisata dai carabinieri della locale stazione. Si tratta di proiettili risalenti alla Prima Guerra Mondiale, calibro 8, label di fabbricazione francese e sono esattamente 1250 i pezzi rinvenuti che sono già stati scaricati, mentre si procede con prudenza al controllo dell'intera area per verificare che non vi sia altro reperto bellico. L'intervento degli Artificeri è comunque durato qualche ora. Ha scassinato la porta di un bar, ha rubato dei gelati, e finito in manette una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine, con sé aveva anche della cocaina. Arrestato ladro di gelati è accaduto la scorsa notte al bar della stazione dei treni di Bassano in via Chilesotti. Il titolare del locale ha ricevuto il segnale d'allarme che qualcuno era entrato nella sua proprietà e ha subito chiamato il 112. Giunti sul posto, i carabinieri hanno notato un individuo che presentava escoriazioni alle mani e aveva con sé i gelati ancora congelati, oltre a un quantitativo di cocaina suddivisa in dosi. Le manette sono scattate per Giuseppe Tamburini, 68enne, già noto alle forze dell'ordine. Dal sopralluogo è emerso chi aveva forzato la porta principale del locale. Gli hanno trovato addosso un martello, una mazzetta da muratore, uno scalpello e una pinza. Tutti sequestrati. E dopo le vostre segnalazioni, i nostri servizi in riferimento al degrado in alcune zone verdi, soprattutto in quartiere Merlo, siamo stati a chiedere proprio spiegazioni e risposte direttamente all'amministrazione comunale. Come promesso, dopo le segnalazioni ricevute per lo stato di incuria in cui versano alcune aree verdi del quartiere Merlo, siamo andati a chiedere risposte e chiarimenti all'amministrazione comunale e al presidente del comitato di quartiere. Il Parco Giovanni Polsicondo è in carico ai volontari del quartiere e lo sfalcio è stato fatto. Come avete visto anche dall'immagine, sì, è rimasta un po' di erba per terra, però purtroppo, essendo che è rimasta un po' alta, è quasi naturale, diciamo, che succeda questo. In riferimento alla vostra segnalazione, corretta segnalazione, assicuriamo che lo sfalcio verrà fatto nei prossimi giorni, giustamente, però ho anche l'occasione per precisare che quella aree lì è stata acquisita dal comune a fine 2020. Dopo ormai dieci anni di atriba di carte bollate, finalmente il comune ha acquisito l'area e finalmente potrà far sì che quell'area venga manutentata proprio dal comune. E a proposito delle dichiarazioni rilasciate anche dal presidente di quartiere, è arrivata una segnalazione che certifica come di lavoro ce ne sia ancora da fare in zona. Alcuni residenti ci hanno infatti mandato la foto che vi stiamo mostrando, che testimonia come l'erba tagliata non sia stata raccolta tutta, anzi una panchina del parco è stata addirittura sommersa dalle ramaglie. La state vedendo. Da direttore ai servizi sociali dell'Ulss 7 pedemontana a cavaliere della Repubblica. Stiamo parlando di Alessandro Pigatto. Non posso negare che mi ha fatto molto piacere e mi ha anche con una certa sorpresa reso lieto anche se devo dire che di là del piacere personale io credo che sia da dedicare più che soltanto a me a tutta la direzione e a tutti gli operatori sociali e sanitari che in questi anni mi hanno accompagnato. Lui lo riconoscete senz'altro è Alessandro Pigatto già direttore dei servizi sociali dell'Ulss 7 pedemontana che è stato nominato cavaliere della Repubblica. Per lui una grande emozione che vuole condividere abbiamo sentito con tutto il personale sanitario che soprattutto nell'ultimo anno terribile di emergenza Covid ha lavorato negli ospedali dell'azienda sanitaria con passione professionalità umanità ed edizione. È una squadra che è stata molto efficace che ha faticato molto anche più di me in certi momenti con compiti diversi il mio ed altri compiti direzionali altri compiti esecutivi altri compiti organizzativi oltre che esecutivi. Io credo che sia un riconoscimento a tutti e soprattutto un riconoscimento anche alla capacità direi del nostro territorio di poter esprimere non solo una competenza sulle cose ma anche una forte una forte visione verso le sofferenze delle persone più fragili verso le sofferenze delle persone più deboli. Che stimolo le dà questa onorificenza? Beh è una cosa che oltre come dicevo prima a vendermi lieto mi dà una una spinta a interessarmi ancora delle situazioni che possono avere difficoltà e che possono avere bisogno. Per me è un piccolo passo mio papà era commendatore io dovrevo arrivarci piano piano e quindi questo è solo un primo gradino per impegnarmi ancora di più. E adesso facciamo un tuffo indietro nel tempo proprio all'epoca di Ezzelino all'epoca di Dante e vi mostriamo vi lanciamo un film che tra l'altro andrà in onda domani sera quindi domenica 25 aprile su Rete Veneta alle 21.15. Ezzelino con i suoi eserciti non aveva paura di niente si è messo contro tutti è andato a Verona ha mandato fuori quelli che erano contro di lui è andato a Padova li ha sconfitti ha costruito conquistato Monselice Montagnana Este ha conquistato Feltre ha conquistato Ceneda Serravalle ha conquistato tutto quello che si poteva conquistare. Un tuffo nella storia nella cultura nella letteratura nella bellezza del nostro territorio grazie al lavoro dell'associazione Terre e Zeline come ci racconta lo studioso Roberto Frison per tutti i popi Non potevo non coinvolgere Rete Veneta nel lancio di questa importante iniziativa che è il film Terre di Tiranni o Santi che cade giusto nei 700 anni di Dante Allighieri dalla morte del sommo poeta e perché? perché Dante relega Ezzelino nell'inferno della divina commedia e poi ne ritroviamo le gesta nel paradiso nel cielo degli amori beati nel cielo di Venere e subito dopo anche racconta di Cittadella della Torre di Malta Il film Terre di Tiranni o Santi sarà trasmesso proprio su Rete Veneta domenica 25 aprile alle 21.15 un appuntamento da non perdere Siamo allo sport calcio con la seconda mini giornata di campionato per l'eccellenza il Bassano cerca riscatto nelle derby a Montecchio Maggiore Seconda mini giornata di campionato per le formazioni di eccellenza nel girone A quello delle Vicentine regna un inaspettato equilibrio il Bassano grande favorita vuole scrollarsi di dosso le ragnatele dell'1-1 al debutto casalingo contro il Camisano impresa tutt'altro che agevole perché gli uomini di Francesco Maino andranno a far visita al Montecchio Maggiore altra big con ambizione di promozione completa nel quadro Camisano Valgatara San Martino Speme Arcella e Vigasio Schio partita che potrebbe valere il riscatto per i giallorossi o la rinascita per i veronesi unica squadra a perdere nel turno del 18 aprile campionato di serie di fermo per lasciare spazio e recuperi il Cartigliano sconta l'ultimo giorno di quarantena per tornare in campo già dal prossimo turno disponibile Riclassificare l'ultimo tratto a sud della Val Sugana siamo quindi in zona alta padovana da strada provinciale a strada statale Sono classificati come strada provinciale i 26,4 km di strada Val Sugana SP47 che collegano Padova a Cittadella un'incongruenza che spinge la vicepresidente della regione Elisa De Berti a scrivere al ministero due i tratti in cui è divisa la Val Sugana andando da nord verso sud il primo va da Trento a Cittadella e qui la strada è classificata come statale il secondo va invece da Cittadella a Padova a tratto dove la strada diventa provinciale impossibile la gestione unitaria di una delle principali arterie di collegamento del Veneto fa notare Elisa De Berti alla direzione generale del ministero delle infrastrutture e della mobilità invitandola nuovamente a poco meno di due anni dall'ultima richiesta a rivedere la classificazione un passaggio più che formale che si ripercuoterebbe poi sulla gestione della Val Sugana a partire da uno dei nodi più dolenti il ponte sul fiume Brenta a Curtarolo questo per noi è tutto grazie per essere stati in nostra compagnia vi lascio le previsioni del tempo e vi auguro una buona serata arrivederci le specialità di Parma dei migliori salumifici direttamente sulla tua tavola salame felino IGP e coppa dolce di Parma a 11,90 euro al chilo scopri ogni giorno la qualità e le super offerte di Cherubin ben trovati al meteo tempo stabile e soleggiato per la domenica del 25 aprile festa della liberazione dunque con clima via via più caldo ma lunedì peggiora con qualche pioggia vediamo allora il dettaglio sul Veneto situazione tranquilla sarà una giornata vedete caratterizzata dalla presenza del sole il cielo sarà sereno o al massimo con poche nubi sparse in serata addensamenti sui rilievi con prime precipitazioni in genere di debole intensità temperature piacevoli minime tra 6 e 11 gradi massime con picchi intorno ai 23 gradi all'incirca vediamo ora come sarà la previsione per Bassano del Grappa stesso scenario sarà asciutto e stabile bel tempo insomma con ampio soleggiamento dappertutto qualche annuvolamento durante la giornata ci sarà ma senza ulteriori conseguenze clima decisamente gradevoli dal meteo di Rete Veneta per ora è tutto arrivederci da Cherubin anche specialità artigianali top bresaola stagionata 24 euro e 90 al chilo e il trancio a 19,90 al chilo Cherubin a Bassano via Gobbi di Rete Veneta